Musica Nel neonato governo Conte e Bis sono tre i ministri siciliani Blutec di Termini Merese sbloccati i fondi per la cassa integrazione Il rispetto al centro del Festival di Lampedusa 2019 giunta alla seconda edizione Buonasera e bentrovati alla prima edizione di Media News di giovedì 5 settembre Come avete sentito dai titoli nel neonato governo Conte e Bis sono tre i ministri siciliani Due sono del Movimento 5 Stelle, il terzo del Partito Democratico Vediamo il servizio Sono tre i ministri siciliani che hanno giurato questa mattina insieme agli altri 18 componenti del governo Conte e Bis, 21 in tutti i titolari dei dicasteri che poi dovranno sottoporsi al rito della fiducia da parte delle Camere Due di questi sono 5 Stelle e uno di loro è una riconferma Compare sulla scena politica poi in quota PD Giuseppe Provenzano che ha avuto un ruolo importante, ma da dietro le quinte, nella politica economica del governo Crocetta Il Ministero del Lavoro, passa da Luigi Di Maio, annuncia Catalfo, attivista 5 Stelle della prima ora già dal 2008 Catanese, poco più che cinquantenne, è orientatore ovvero viene dal mondo della formazione dove ha lavorato collaborando con i centri per l'impiego in vari progetti contro la dispersione scolastica e per la formazione obbligatoria alternativa alla scuola è prima firmataria della legge sul reddito di cittadinanza Alfonso Bonafede, il secondo dei ministri 5 Stelle siciliani, è uno dei pochi che resta al suo posto e nello stesso di Castero, la giustizia 43 anni, viene da Mazzara del Vallo ma vive a Firenze da anni è un avvocato civilista e uno dei suoi primi impegni sarà la riforma della giustizia penale è vicino a Luigi Di Maio ma anche al vicepresidente dell'Ars, Giancarlo Cancelleri la sorpresa viene dal PD che nomina il giovane Giuseppe Provenzano e lo manda al Ministero per il Sud al posto di Barbara Lezzi 39 anni da Caltanissette, un'astro nascente della politica a Piddina ma anche una lunga storia di uomo da dietro le quinte è stato infatti impegnato nel primo e secondo governo crocetta alla regione siciliana è stato a lungo l'uomo dei conti in Sicilia come capo della segreteria dell'ossessorata all'economia quando a ricoprire il ruolo era Luca Bianchi il suo era un ruolo politico, non tecnico, ma anche se di un tecnico si tratta sulla carta Provenzano infatti è stato vice direttore dello Svimez di recente è stato nominato membro della segreteria nazionale del PD con delega alla metària del lavoro con Luca Bianchi ha scritto numerosi saggi tecnici sulle politiche di coesione sulla svolta nordista dell'economia non solo italiana Blutec di Termini Merese, sbloccati i fondi per la cassa integrazione i sindacati chiedono adesso un cambio di passo sulla vertenza L'approvazione in via definitiva del decreto crescita è un fatto importante perché sblocca la tutela degli ammortizzatori sociali dei lavoratori Blutec fino al 31 dicembre adesso chiediamo con forza al nuovo governo un cambio di passo una svolta sulla vertenza che i lavoratori ex Fiat e dell'Indotto e il territorio attendono da troppi anni il 31 ottobre il commissario giudiziario della Blutec dovrà presentare il piano industriale a dirle il segretario della FIOM siciliana Roberto Mastro Simone per queste ragioni al nuovo governo chiediamo di sostenere soprattutto ad impegnarsi a trovare una nuova missione produttiva che possa rioccupare sia i 670 lavoratori Blutec sia i 300 lavoratori dell'Indotto aggiunge il sindacalista al nuovo governo diciamo che non c'è più tempo da perdere se si vuole cambiare passo e soprattutto se si vuole dare un segnale importante alla Sicilia l'avvertenza di Termini Merese è un'occasione per il nuovo governo perché finalmente si guarda i bisogni dei cittadini al mezzogiorno questa avvertenza è un simbolo dei fallimenti dei governi del passato è cominciata nel 2009 e prosegue nonostante i vari governi che si sono succeduti ecco questa avvertenza poi deve essere una svolta per il nuovo governo il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge che contiene importanti misure sulle crisi aziendali in atto al nostro paese il testo prevede, dicono il segretario generale della FIMCIS Palermo Trapani Antonio Nobile e il responsabile FIMCIS Blutec Giacomo Raneri lo sblocco dei fondi per la cassa integrazione per le aree di crisi complesse e quindi la copertura anche per gli ammortizzatori destinati ai lavoratori Blutec di Termini Merese rimangono ancora fuori i lavoratori dell'indotto dell'ex Fiat per i quali va trovata una soluzione per evitare che 300 famiglie già in parte senza copertura rimangano senza reddito e senza futuro la regione si è impegnata con un accordo al MISE a dare copertura per la rimanente cassa integrazione per tutto il 2019 queste misure afferma Leonardo Lapiana segretario generale CIS Palermo Trapani pur dando un aiuto importante e fondamentale non risolvono però i problemi dei lavoratori di Termini che sono stanchi e chiedono di tornare a lavorare per questo, concludono Nobile e Lapiana chiediamo alla regione un ulteriore impegno e al nascente governo Conte e BIS di mettere in campo atti concreti per l'attesa svolta industriale che vadano oltre gli annunci si intervenga in maniera decisa sulla vertenza per non abbandonare i lavoratori le loro famiglie e il futuro di un intero territorio Aeroporto di Palermo il 9 settembre sindacati convocati dalla GESAP Filt CGL ecco perché siamo preoccupati dall'arrivo di una nuova società di gestione vediamo dopo le preoccupazioni espresse da tutte le sigle sindacali in merito alla richiesta di una nuova società di gestione a operare nello scalo palermitano Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL CISAL sono stati convocati il 9 settembre alle 14.30 dalla GESAP nella sala conferenze del centro direzionale per un incontro la richiesta di convocazione dei sindacati inviata a GESAP ed ENAC è stata prontamente accolta dice Fabio Lomonaco coordinatore Filt CGL Palermo dell'aeroporto siamo preoccupati la possibilità dell'arrivo di un'altra società può scatenare un effetto domino che distrugga il precario equilibrio raggiunto che in questi anni ha garantito crescita e sviluppo siamo preoccupati perché in un aeroporto in fase di restyling dove presto ci saranno diversi cantieri l'arrivo di una nuova società creerebbe problemi relativi alla sicurezza dei passeggeri e lavoratori siamo preoccupati perché al momento non esiste un contratto di sito produttivo e non esiste come avviene in altri aeroporti una limitazione tramite bando del numero delle società di gestione negli ultimi anni nonostante non ci fosse un accordo di sito il ruolo del sindacato all'aeroporto Falcone e Borsellino sottolinea la Filt è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo dello scalo palermitano il sindacato non solo ha garantito tutti i lavoratori ma ha svolto un ruolo di mediazione non indifferente per garantire stabilità societaria e tutela occupazionale aggiungerò Monaco l'eccezionale sviluppo dell'aeroporto non sarebbe mai potuto avvenire senza i sacrifici dei lavoratori di GH a via partner sacrifici che sono stati assai pesanti nei periodi di bassa stagione i lavoratori sono stati costretti per tre mesi a trasferersi a Venezia o Milano per evitare il licenziamento sono stati sottoposti a turni flessibili o spezzati hanno rinunciato a benefit come ad esempio il pulmono aziendale tutti questi sforzi aggiungerò Monaco hanno permesso di mantenere e tutelare i livelli occupazionali di stabilizzare i lavoratori che erano stagionali da oltre dieci anni e di fare assunzioni tutto ciò è avvenuto senza abbassare mai la qualità dei servizi a fine agosto era partita la nota congiunta auspichiamo, conclude lo Monaco che questa ritrovata unità sindacale sia duratura perché soltanto insieme possiamo dare il meglio per i lavoratori dello scalo parliamo di rifiuti istituito presso il comune di Palermo il tavolo permanente presieduto dall'assessore all'ambiente giusto Catania per affrontare e risolvere le criticità connessa all'impianto di Bellolampo stiamo collaborando con la regione siciliana in particolare con l'assessore Alberto Piero Bonne per trovare soluzioni condivise al fine di prevenire il paventato rischio ambientale rappresentato nella relazione di ARPA dichiara l'assessore all'ambiente giusto Catania inoltre stiamo verificando l'eventuale disponibilità economica della regione per garantire la veloce fuoriuscita dei rifiuti da Bellolampo che a seguito della chiusura della sesta vasca sono confinati nell'area del TMB gli uffici dell'assessorato all'ambiente hanno predisposto un'ordinanza sindacale al fine di eliminare parzialmente alcune delle criticità in particolare ARPA viene autorizzata a occupare in via immediata e temporanea l'area denominata Ex Unieco presso il polo impiantistico di Bellolampo per l'installazione di un impianto di tritovaiatura mobile in supporto al TMB e di un impianto di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaio in uscita dal tritovaiatore i nuovi impianti saranno operativi nel giro di pochi giorni e sono autorizzati a trattare un quantitativo di rifiuto massimo in ricezione pari a 600 tonnellate al giorno la RAP è autorizzata a depositare presso la sesta vasca il sottovaio biostabilizzato opportunamente miscelato a terre di inerti in quantità di almeno il 50% al fine di realizzare la copertura definitiva della stessa vasca regolarizzando i profili per la sicurezza morfologica e quindi raggiungere la sagoma definitiva idonea per le successive attività di chiusura e messa in sicurezza previa verifica di compatibilità geotecnica ciò consentirà di liberare l'area del TMB di circa 2.500 tonnellate di sottovaio che sarà inserito nelle biocelle infine RAP viene autorizzata al deposito preliminare di eco-balle del sopravaglio presso un'area interna alla piattaforma impiantistica denominata area Ex-Inerti con le prescrizioni già recentemente previste dall'ARPA con questa ordinanza che sarà sottoposta alla firma del sindaco Leluc Orlando appena giungeranno i pareri dovuti di ARPA e ASP l'area del TMB di Bello Lampo sarà liberata di circa 9.000 tonnellate di rifiuti sottolinea Catania e questo rappresenta una parziale soluzione per eliminare buona parte delle criticità emersi in questi giorni il tavolo permanente riunito in connessione con la regione sta valutando ulteriori soluzioni per la fuoriuscita da Bello Lampo del rifiuto non trattato I carabinieri di Bagheria hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento di fermo della procura del Tribunale di Termini Marese un 46enne napoletano e un 33enne accusati di rapina aggravata e furto con strappo compiute tra il 13 luglio ed il 28 agosto ai danni di pensionati e clienti di poste e banche che avevano da poco prelevato i soldi agli sportelli le indagini sono partite a seguito di una rapina avvenuta a Casteldaccia la mattina del 13 luglio scorso ai danni di una persona anziana che poco prima aveva prelevato del denaro all'ufficio postale ed hanno permesso di ricostruire ulteriori due episodi delittuosi analoghi commessi nell'Interland palermitano l'attività di analisi delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza degli istituti di credito hanno permesso di individuare gli autori degli episodi delittuosi commessi sempre mediante un collaudato modus operandi i due individuavano un ufficio postale o bancario da monitorare e mentre uno dei due malviventi accedendovi all'interno studiava le potenziali vittime scegliendole tra le persone più anziane o tra coloro che prelevavano ingenti cifre di denaro il complice aspettava all'esterno a bordo di uno scooter selezionata la vittima i due malfattori la pedinavano ed una volta giunti in un luogo isolato procedevano al furto per poi scappare sono stati ricostruiti ben tre episodi verificatisi tra Casteldaccio e Villa Abate le vittime sono un 81enne palermitano che aveva prelevato 1.100 euro ed un 49enne di Casteldaccio che aveva prelevato 4.000 euro circa lo scorso 28 agosto l'ultima rapina ai danni di un 49enne di Villa Abate di 500 euro domani al Teatro Verdura di Palermo andrà in scena le avventure di Pinocchio su musica di Antonio Cericola e il libretto di Sandro Bernabè il grillo parlante Pippo Franco la regia di Giovanni Battista D'Asta vediamo è una storia un po' lunghetta perché ho conosciuto il maestro Cericola tanti anni fa sapendo come lui scrive ho accettato la proposta del mio maestro di direzione d'orchestra di conoscere quest'opera che era stata fatta ad Atene nel 2004 in occasione delle Olimpiadi la partitura mi ha convinto sin da subito e l'idea di portare in scena un'opera lirica nuova che non sia la solita routine con tutto il rispetto per i grandi compositori come Verdi Puccini che io amo tantissimo però l'idea di offrire al pubblico siciliano per la prima volta una delle più grandi favole posta in musica e posta in musica così bene mi ha convinto di cominciare la macchina della produzione in scena anche un ospite davvero speciale direi speciale e straordinario abbiamo voluto con tutto il nostro grande desiderio Pippo Franco nel ruolo del grillo parlante che lui ha accettato ben volentieri che domani avremo modo di poterlo ascoltare perché è veramente straordinario questa opera nuova permette a me chilo diretta già 16 anni fa per la prima volta in prima assoluta mi ha consentito di esprimermi liberamente ovviamente il testo di riferimento è quello collodiano il pinocchio classico che già di per sé permette di prendere spunti in quantità davvero incredibile quindi la fantasia all'opera potrei sintetizzare il mio lavoro su questo splendido libretto di Sandro Bernabei che è una summa davvero efficace comunicativa e spettacolare di tutti gli elementi fondanti appunto ripeto dell'opera collodiana l'allestimento verterà prevalentemente su restituire le motività dei colori attraverso scene essenziali anche perché sono scene che sono state pensate per dei luoghi molto belli come il teatro di Verdura e poi il teatro di Taormina che di per sé meriterebbero di essere valorizzati senza scena sono veramente molto emozionata e per me significa tante cose innanzitutto è la prima esperienza che mi lancia nel mondo lavorativo ma per davvero quindi è emozionante perché sono molto giovane ho 18 anni quindi è anche un peso però è bello è bello perché è quello che io ho sempre sognato quindi sono felicissima io ho sempre letto la la fiabba di Pinocchio mi è sempre affascinato il ruolo della fata turchina perché quel modo di essere proprio materno per Pinocchio è anche una presenza importante sabato sabato prossimo a Villa Cattolica Bagheria concerto della settima corale polifonica diretta dal maestro Manrico Signorini dal titolo sulle note di My Way per una strada senza barriere finalmente finalmente a casa che adoro Palermo come sapete però è stata una bellissima esperienza al festival Puciniano dove sono stato invitato da maestro Veronesi un festival quest'anno di grandissimo livello tre recite di Butterfly eccezionali riconferma per l'anno prossimo e un viatico per la Scala di Milano sono veramente felice sono tornato grazie sempre a te Teresa per divulgare sempre la musica bella e abbiamo questo concerto sabato prossimo a Bagheria Villa Cattolica con tema sociale bellissimo l'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Bagheria che è nata nel 2017 è un gruppo veramente straordinario che fa tanta beneficenza ha creduto in noi come corale la settima polifonia e sabato verranno donate due carrozzelle per disabili all'interno del Museo Guttuso un'iniziativa veramente eccezionale ci saranno autorità quindi invitiamo veramente tutti a venire a sentire sempre con i nostri programmi misti fra sinfonico e musica da film e infatti quale sarà la scaletta della serata? allora la scaletta della serata partiamo da un classico di adagio d'albinoni quindi sinfonico tema da film fino al mio cavallo di battaglia che è My Way naturalmente sempre con l'aiuto della mia assistente Alessandra Laspina veramente prezioso andiamo sempre costruendo questi mix fra sinfonico e musica da film ricordo che poi per l'anno prossimo ci sarà un grande spettacolo ancora con location a definire ma noi dopo il set partiremo a studiare tutto questo spettacolo con i miei arrangiamenti di cui poi vi aggiorneremo man mano c'è anche bisogno di voci nuove sì grazie abbiamo ricordato voci nuove perché lo spettacolo inizierà con un brano che richiede molte voci che è di Carmina Burana o Fortuna ma poi lascio lo suspense perché sarà un brano da me arrangiato molto particolare eccetera andremo da Orf fino ai Queen addirittura quindi ho bisogno di belle voci soprattutto maschili mi mancano che abbiano sapienza musicale il rispetto al centro del festival di Lampedusa 2019 giunta la seconda edizione che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 settembre il linguaggio dell'arte per parlare di diritti umani e ambiente tre giornate di cinema musica food street art performance live ed escursionismo per tutelare l'interculturalità e il paesaggio dell'isola più a sud d'Europa tutto racchiuso nel nome Festival di Lampedusa che in tre parole suggerisce subito l'idea di una kermesse culturale in un'isola che fin dall'antichità è scenari di spettacoli naturalistici e crocevia di popoli mediterranei un evento che dopo lo start dello scorso anno torna con la seconda edizione nel weekend del 27 28 29 settembre 2019 grazie all'impegno civico dei giovani dell'associazione Lampedusa con l'organizzazione di hub turistico Lampedusa e onde motive production e la direzione artistica di Luca Vullo obiettivo della kermesse è quello di declinare con il linguaggio universale dell'arte il rispetto fondamentale verso l'uomo e i suoi diritti verso l'ambiente e il suo ecosistema un rispetto che può realizzarsi solo se plurale se compiuto insieme se positivamente contagioso per questo il festival di Lampedusa è un invito al dialogo valorizzando arricchendo le diversità culturali e al tempo stesso tutelando l'arcipelago e il mare delle pelage così da contribuire alla sensibilizzazione per la tutela della biodiversità il festival nasce con lo spirito che si possa parlare di Lampedusa in maniera diversa facendo scoprire le sue unicità e allontanandola dalla strumentalizzazione mediatica afferma il direttore artistico Luca Vullo così abbiamo concepito un laboratorio di idee su temi cruciali per il futuro di tutti proponendo occasioni di scambio interculturale e di diffusione di buone pratiche durante le mattine abbiamo organizzato escursioni naturalistiche e percorsi sensoriali in collaborazione con Lega Ambiente Sicilia e Onlus Mare Vivo accompagneremo i visitatori alla scoperta dell'enorme lavoro di recupero ambientale svolto negli anni all'interno della riserva naturale Isola di Lampedusa concludendo la passeggiata nella splendida Isola dei Conigli considerata tra le più belle spiagge del mondo con Slow Food e Isole Slow Siciliane sezioni di Lampedusa abbiamo pensato invece ad attività gastronomiche per la promozione dei prodotti e delle tradizioni locali e inviteremo il pubblico al cospetto di Zia Concetta per imparare l'antica preparazione di ricotta pane e capperi le ore pomeridiane continua il direttore artistico saranno dedicate alla musica e alla realizzazione di murales con diversi appuntamenti nella cornice delle suggestive location naturali che Lampedusa offre ogni giorno accompagneremo con un live session l'esperienza del suggestivo tramonto isolano la sera invece ci ritroveremo a Piazza Castello centro dell'anima culturale Lampedusana per una rassegna di documentari internazionali arricchita da incontri con registi di battiti e musica dal vivo saluteremo l'estate dal cuore del Mediterraneo con le braccia protese al mondo interno Torna Parco Jazz 2019 il festival jazz di Altofonte un ricco e variegato programma attende gli appassionati di tutta la provincia di Palermo è noto il cartellone di Parco Jazz 2019 il festival del jazz di Altofonte giunto alla sua quarta edizione un ricco e variegato programma attende gli appassionati di tutta la provincia di Palermo questo fine settimana nelle serate del 5, 6 e 7 settembre l'obiettivo è quello che ci prefissiamo tutti gli anni nonché di avere un buon riscontro da tutti i punti di vista sia dal punto di vista di livello di cartellone ma anche dal punto di vista di presenze quello che cerchiamo noi di far arrivare ad Altofonte appunto sempre più persone che vengono a sposare questa nostra causa dobbiamo ringraziare tutte le attività produttive e commerciale aziende del territorio che ci stanno dando una grande grande mano in linea con le edizioni precedenti ho voluto diversificare l'offerta concertistica parlando dei concerti in senso stretto vi posso dire che il giorno 5 il cartellone sarà aperto dai nuovi talenti del conservatorio Vincenzo Bellini a seguire alle ore 22 faccio gli onori di casa ospitando col mio quartetto il tombettista bagherese Giacomo Tantillo il giorno dopo invece il secondo giorno della manifestazione il 6 settembre sarà ospite di Parco Gese invece l'armonicista uno dei più grandi armonicisti che abbiamo sul territorio Giuseppe Milici che si esibirà un concerto molto intimo e molto raffinato insieme a Valerio Rizzo pianista altrettanto eccellente in un concerto intitolato carte blanche e poi il 7 di settembre la chiusura di Parco Gese invece ho voluto dedicarla al manifesto della musica basiliana in Sicilia e non solo che è Vincenzo Palermo Vincenzo Palermo chitarrista e cantante di musica basiliana ci verrà a trovare con il gruppo chiamato Bellezza Pura che è un gruppo misto che hanno ora sia musicisti brasiliani sia musicisti del territorio A Palermo nel quartiere Cruillas al centro sportivo Tre Stelle sotto la supervisione del direttore tecnico Massimo Sarci inizia una nuova stagione sportiva della Football Academy targata Golden Team Academy Quest'anno con la direzione tecnica di Massimo Sarci abbiamo in esclusiva una nuova metodologia di insegnare calcio il nostro obiettivo e il nostro punto di forza è non creare la squadra vincente ma bensì il singolo atleta l'atleta che deve essere pronto ad affrontare prima la vita e poi i campi di gioco per questo abbiamo istituito una giornata academy la giornata academy noi la svolgeremo per i bambini e i ragazzi dai dieci anni in su nella giornata di sabato e poi le novità le venite a scoprire qua ovviamente in seda io sono stato parecchio tempo all'estero ho avuto modo non solo all'underlet ma attraverso proprio le opportunità che l'underlet mi ha dato in giro per il mondo di sperimentare innumerevoli metodologie tecniche e questo mi ha dato comunque un bagaglio penso insomma una visione più che altro molto importante molto vasta la verità assoluta nel calcio non esiste come nella vita penso però il confronto è sempre alla base di tutto il confronto non ci è mai mancato questa realtà che stiamo cercando insomma abbiamo aperto qua a Palermo avrà la possibilità di sperimentare queste metodologie sui ragazzi palermitani che è poi la mia terra quindi per me è un grandissimo piacere è un grandissimo onore dare questo contributo alla mia regione ma la metodologia ovviamente parte da un presupposto ludico ricreativo e arriva a quello che possa essere voglio dire la parte didattica e di sperimentazione una società sportiva che sta lanciando dei messaggi importanti messaggi rassicuranti anche per i genitori che possono intanto venire qui in un contesto immerso nel verde in cui abbiamo Massimo Sercic che ha fatto una bella esperienza all'estero sta portando quindi una metodologia importante questo è utile ed è utile perché calcisticamente si possa crescere ma è importante è fondamentale anche perché lancia dei messaggi a questi ragazzi che al di là del diventare grandi calciatori e qui ci sono perché no le premesse visto le competenze saranno certamente dei giovani dei giovani adulti delle persone perché no impegnate nella società capaci di poter rappresentare una parte sana di questa Palermo nel campo e fuori dal campo è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla seconda edizione di Media News Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti